mazzo di moto a zero a zero con la vertigo a zero ostia che passassi dei stupid però limenti l'ho fatta anch'io a zero non la faccio con la mia l'ho fatta con quella ma pensate che figo il cir hai visto? ho fatto il gradino adesso la mia moto è lì avanti non ho bisogno di tornare dietro ma perché? in secondo e in terzo eh ma vedi che muore via bisogna ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.